ciao a tutti se si attiva forse ci riusciremo e riusciremo a parlare anche stasera così posso leggere le vostre domande e rispondere ai vostri quesiti ciao a tutti sono andata a fare la spesa mi servivano delle cose per pasqua diciamo quindi ho fatto un tratto un po più lungo anche perché sono dovuta andare a piedi da celiachiamo per prendere le cose per mia figlia e vi dico che una tristezza tutto chiuso tutto tutto c'è una cosa è raccontarlo altra è la prima volta in questa quarantena che faccio un tratto a piedi così lungo c'ero andato in macchina negli altri giorni ma erano finite alcune cose e vi dico che vederlo dal vivo che è tutto chiuso qualsiasi attività qualsiasi negozio qualsiasi ristorante mi chiedevo ma quando riapriremo quando ricominceremo come come faranno i bar i ristoranti parlo continuamente con persone che temono di fallire che boh non lo so la dieta che hai fatto che stai facendo sì la sto facendo sono al secondo giorno ferreo ragazzi di dieta ferreo questa maledetta dieta chetogenica speriamo di resistere ma devo resistere per forza bevo acqua in quantità industriale e verdure chiaramente che per la pasqua sarà proprio un divertimento già siamo chiusi in casa aggiungiamoci la dieta e sarà proprio fantastico però ci prepariamo all'uscita sperando che sia presto ma temo che non sarà proprio prestissimo perché da quello che ho letto e sentito come vi dicevo non se ne parla prima di maggio e quindi la situazione è quella che sapevamo d'altra parte mi pare che medici e scienziati non siano proprio d'accordissimo a riaprire immediatamente per cui credo che ci vorrà ancora un pochino prima di riattivare tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti avete visto i dati oggi non sono buoni di nuovo questa curva è una curva molto strana cioè sale scende scende sale e fissa certo meno terapia intensiva meno decessi degli altre volte però insomma la situazione adesso mi sembra di nuovo in salita almeno oggi speriamo che non sia così allora che cosa mi chiedete settore turistico e ristoranti settore turistico e ristoranti alessandro è un settore complesso soprattutto i ristoranti guarda se ci faranno andare in vacanza e quindi riapriranno e si potranno riaprire le attività turistiche forse quel mondo un piccolo una piccola boccata di ossigeno l'avrà ma i ristoranti io la vedo difficilissima veramente ora parlavo un mio amico ristoratore e mi diceva che loro hanno un fitto altissimo che ha un ristorante qui a roma di 4 mila euro mensili chiaramente il ristorante chiuso non fa incassi non fa utili ha la gente in cassa integrazione e deve pagare il fitto come tutti noi di attività di case e sa bene che non riprenderà la propria attività di ristorazione per molto tempo quindi era alquanto disperato perché la moglie non sta bene in salute quindi non può andare a lavorare insomma ordinarie tragedie di questo periodo ciao luca saluto luca bellotti dice luca qui a como riapriremo al 100 per cento il prossimo anno beh devo dire che per alcune attività temo che si andrà molto a lungo veramente molto lontano perché d'altra parte io immagino facciamo una riflessione quanti di noi anche avendo l'opportunità andranno a mangiare al ristorante a rischio che il bicchiere un po meno pulito che la posata non è proprio perfetta se non si può andare al ristorante per stare in compagnia e quindi socializzare chi andrà solo per mangiare difficile chi fa lavoro chi va per lavoro e si deve fermare per cibarsi ma il ristorante per noi è socializzare roberto i decessi sono di più rispetto a ieri sì ma non solo i decessi che magari riguardano contagi precedenti e purtroppo persone che sono decedute in queste ore e tra ieri e stamani il tema vero è che i nuovi contagiati sono di nuovo cresciuti quindi abbiamo doppio dramma aumento di decessi e aumento di contagiati ancora una volta caro roberto antonio mi chiede 600 euro non si ancora visti e nemmeno il blocco dei mutui perché le banche non lo fanno ecco io non so se l'hai chiesto antonio alla banca di bloccare il mutuo di ferire eccetera eccetera mutuo che comunque poi pagheremo ma almeno adesso insomma uno respira evita di pagarlo il tema è che ho visto che anche per il decreto che riguarda i soldi dati alle aziende molte banche ti rispondono picche quindi bisogna fare i controlli con le banche e anche 600 euro a molti non si sono ancora visti e molti autonomi ho visto gli chef che hanno dovuto chiedere i 600 euro di molte persone che non avrebbero mai creduto di dover accedere a un sussidio di stato ma è così ed è vergognoso se ancora non arrivano perché la quarantena è ora e la necessità di mangiare e fare la spesa e di vivere di pagare le bollette diciamo una vita minima ce l'abbiamo adesso quindi è molto grave sì Stefano hai ragione per gli affitti ci vuole una mano seria molto seria è un tema serissimo che riguarda sia le nostre abitazioni e quindi le case e chiaramente riguarda anche le attività commerciali penso a negozi ristoranti che non guadagnano un euro e pagano fitti incredibili perché ragazzi nelle grandi città i fitti sono molto alti come sapete Raffaele mi dice ho finito la Naspi il 26 febbraio perché non posso avere nessun aiuto nemmeno il reddito di emergenza ma non credo Raffaele sia così credo che tu possa accedere a tutte le varie opzioni che ci sono perché non è possibile che tu possa restare senza lavoro e senza un euro in questo periodo sono diversi le opportunità che si hanno di fare accesso quindi verifica bene perché hai avuto delle risposte negative allora Marianna mi chiede io lavoro in centro commerciale prima di giugno non credo che si riapra sì difficile perché il centro commerciale prevede assembramenti e quindi forse prima di giugno non riaprirà immagino anch'io sarà forse fra le ultime cose che andranno in in attività sicuramente per i rischi che ci sono di contagi Basilio mi chiede se quest'anno secondo me è saltata anche la stagione ma Basilio non lo so non credo nel senso che non credo che la stagione sia saltata almeno lo spero perché se mi togliete anche questa speranza cioè mi sento super depressa non depressa perché almeno la speranza di insomma uscire il prima possibile avere un minimo di attività vorrei averla e darla anche a voi che mi leggete e mi scrivete Massimo mi dice che lavoro in Svizzera e lunedì mi hanno già accreditato lo stipendio infatti lavoro in Svizzera e bim in Svizzera non in Italia questa differenza ahimè ed è molto triste che lo sia Davide Nunzia sei interessante su tutti gli argomenti ma ti vogliamo in politica oh e questo è l'argomento classico che utilizzate tutte le sere ad un certo punto cioè la necessità che io torni in politica oggi parlavo per la mia azienda con un comprenditore del settore vinicolo che fa vendita che fa i converse e diciamo abbiamo parlato penso cinque minuti di azienda e un'ora e mezza di politica e lui che dice che io devo assolutamente tornare ormai un ritornello di questa quarantena chissà perché chissà perché Giuseppe inizia la nuova proroga sarà fino al 3 maggio penso di sì Giuseppe credo che sarà fino al 3 maggio perché arriveremo a fine aprile poi ci faranno un'ulteriore proroga onde evitare in te si va da poi al primo maggio che festa e deliri da primo maggio che possono succedere perché non siamo tutti responsabili anche se io temo che anche quando riapriranno io sono la prima che non viene l'ora di uscire un po' di paura ci sarà ad uscire quindi boh vedremo cosa accadrà ho visto un video di One che è stato appunto per più di tre mesi a casa loro dicevano non commettete gli stessi errori nostri sia in questa fase di emergenza errori che secondo me alcuni sono stati già commessi che successivamente su questo dobbiamo stare molto attenti Lorenzo mi dice invece che il settore del trasporto aereo è completamente in crisi beh se pensiamo una fra tutte all'Italia è già un disastro immaginate come starà dopo questa questa fase e comunque tutto il settore in crisi verissimo oggi ho visto uno speciale su come disinfetterà il trasporto compresi gli aerei in particolare che sono quelli dove siamo più stretti però immagino che noi non li useremo per ora cioè forse spostamenti interni sicuramente in Italia ma all'estero o nel resto d'Europa mi pare difficile visto che stanno peggio di noi cioè la verità è che stanno peggio di noi perché se vedete i numeri vi guardate le gradatorie sono terribili Alfonso ma la tua risposta rientra in politica qual è? Lo scopriremo vivendo dopo la quarantena lasciamoci con questo mistero Baldo come va a finire con il mess? Ah domanda da un milione di dollari non ho idea di cosa deciderà di fare Conte eccetera eccetera secondo me bisognerebbe stare molto attenti all'Europa in questo momento molto cauti e molto diffidenti non so se avete notato l'egoismo dell'Olanda che veramente farà capricciare la... cioè ti fa proprio rabbrividire perché pensare che era la terra della libertà e oggi è diventata una terra di egoismi è veramente orribile le dichiarazioni fatte in queste ore sono veramente orribili Alfonso mio figlio ha un'attività di vendita gelate sulle spiagge chissà come andrà ma guarda non è tanto il problema è le apriranno sicuramente quali saranno le distanze avremo le mascherine se noi ci saremo sulle spiagge e potremo vivere una pseudo stagione estiva normale poi ci sarà tutta la gente che comunque deve lavorare per il tempo che non ha lavorato in questa fase di quarantena che comunque dura da tanto comunque non facciamo incassi eccetera 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 se si riattivano probabilmente tuo figlio li vende i gelati perché figuriamoci se non li vende il tema è vedere come andremo in spiaggia Tonia non sia purtroppo ci sono troppi morti sì ci sono troppi morti ci sono troppi morti e Tonia la mia paura è che se noi continuiamo così e non vediamo un rallentamento continueremo a contarli e dietro quei morti ricordiamo che ci sono storie di persone e non numeri perché ci stiamo quasi abituando a leggere dei numeri e nient'altro cioè invece ci sono storie di persone e ci sono grandi dolori dietro alla morte di nostri concittadini che ci hanno lasciato a causa di questo maledetto coronavirus speriamo che insomma si riducano almeno questi numeri e quindi di non dover piangere ancora a lungo tante persone eh Pasquale facciamo l'Olanda no non ho letto bene non ho capito la domanda scusami adesso è passata quindi non l'ho vista eh cacciamo forse l'Europa dall'Olanda ho letto male scusate sono disidratata ehm cacciamo l'Olanda eh beh io penso che l'Europa c'è un serio problema oggi più che mai e al di là di chi cacciare o non cacciare gli possiamo cacciare pure un bel calcio nel sedere perché in questo momento più che mai penso che ci voglia grande rispetto grande rispetto soprattutto per tutti quei morti di cui parlava Tonia che non sono solo in Italia ma sono in tutta Europa e quindi gli egoismi europei dell'Olanda o di qualsiasi altro stato non sono accettabili non sono assolutamente concepibili e devo dire che indignano tantissimo ehm Marianna secondo me anche se si riapre in pochissimi vanno al mare quest'anno ebbè con la crisi economica che c'è effettivamente Marianna è difficile cioè nel senso che le persone se lo potranno permettere al di là delle aperture al di là eh delle paure che saranno legittime perché molti di noi avranno paura perché voi immaginate il contagio la sabbia l'acqua oggi ho sentito di una che lavora per una società che si occupa di acqua che stanno facendo anche degli studi su tutti i nostri i nostri rifiuti diciamo così quanto possono contaminare l'acqua per quelli che sono malati cioè c'è un delirio molti avranno paura e poi al di là della paura chiaramente di andare in spiaggia c'è il tema ci avremo le possibilità economiche di farlo boh sono persone che non hanno la possibilità di pagare di affitti o di mangiare cioè per andare al mare ci vuole un minimo di risparmio e se i risparmi li stiamo utilizzando per per sopravvivere in quarantena sarà complicato e al di là dei risparmi avremo tanti costi in più che prima non avevamo perché avevamo gli incassi ma così immagino soprattutto quelle fasce che se lo potevano particolarmente permettere oggi sono in grande difficoltà e soffrono Corrado Nunzia io da resto a casa se non pago l'affitto farò io resto sotto i punti e questa è la preoccupazione vera non sei l'unico ci sono tantissimi professionisti tantissimi liberi professionisti che prima pagavano con tanta serenità il fitto il cavolo di locazione che ora non ce la fanno a pagarlo e la paura è appunto quella che dici che facciamo tutti i punti quindi se lo stato non interviene sui fitti la vedo molto dura forse è una delle prime cose da fare onestamente Dario io sono di Bergamo questo è un momento molto molto duro ma teniamo duro bravo Dario questo è vero un momento molto duro e dobbiamo tenere duro al di là insomma delle preoccupazioni di tutti è chiaro che non abbiamo alternativa e dobbiamo dimostrare in ogni caso la nostra forza quindi ti ringrazio per questa sollecitazione positiva se mi vedete un po' moscia non è colpa del virus della depressione da casa della preoccupazione che c'è come sapete tantissimo ma è colpa della dieta che sono in debolezza totale adesso devo prendere una bevanda per ritrovare energia prima di andare su Instagram a fare il collegamento perché sicuramente perderò dei chili in questi giorni ma andrò ancora più giù con le mie forze allora Vincenzo faremo la fine della Grecia con un max di predievi di 50 euro al giorno no Vincenzo non pensiamo così negativo non faremo la fine della Grecia no ma non lo consentiremo vi posso dire una cosa non consentiremo di farci ridurre come la Grecia perché poi a un certo punto ragazzi siamo pazienti siamo bravi siamo tolleranti capiamo ci comportiamo bene siamo italiani tutto quello che volete ma non ci facessero girare le scatole chiunque sia perché noi la fine della Grecia non la faremo e non la vogliamo fare e qualsiasi cosa dovremmo fare lo faremo per evitarlo se dovesse trattare di metterci noi a trovare le soluzioni noi 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 persone che nella vita abbiamo lavorato che abbiamo che vogliamo che le cose si risolvano quindi Alberto dai rientra in politica ma candidati al nord ecco Alberto a me la proposta del nord mi mancava nel senso che io mi sono candidata al nord mi sono candidata a Bologna città che amo la saluto se c'è qualcuno collegato rapporti che ho ottenuto nonostante sia stata solo un mese lì catapultata veramente è stata un'esperienza straordinaria ho capito anche quanto è diverso fare politica al nord vi devo dire è molto più facile fare politica al nord che al sud proprio in termini di pretese è un fatto culturale e purtroppo al sud hanno abituato la cattiva politica ha abituato alcune logiche sbagliatissime e però c'è un grande lavoro da fare al sud e quindi migliorare dalle campagne elettorali in poi sia la classe dirigente che chi vota è molto bello fare politica nel nord Italia quindi io sono stata a Bologna e ti dico è stata un'esperienza straordinaria devo dire che in queste ore mi arrivano proposte da voi di cui insomma sono anche orgogliosa sono grata per queste proposte mi arrivano proposte incredibili di tutti i tipi appunto da sindaco di Roma a candidata al sud quindi tornare al sud a venire al nord a fare la candidata vedremo 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 dopo la quarantena che cosa farò se tornerò a fare solo televisione o se annuncio una discesa un ritorno in campo boh non si sa ora usciamo dall'emergenza ora torniamo alla vita che è la prima cosa e possiamo salute Mario quanto costa davvero uscire dall'Europa ci potrebbe costare quello che non immaginiamo ci potrebbe costare tutto oggi non siamo nelle condizioni di fare una cosa del genere quindi non ci facciamo prendere dalla pancia non cerchiamo un nemico sebbene si stia dimostrando un nemico perché ne abbiamo già troppi in questo momento adesso pretendiamo rispetto prendiamo gli accalci nel sedere e poi vedremo cosa fare successivamente va bene ragazzi vi saluto vado e mi vado a prendere la bustina per trovare energia ho bisogno che palle sta dieta ve lo posso dire forse era meglio che mi stavo un po' grassottella vabbè vi mando un bacio grande Vincenzo è presidente della regione campagna dilla De Luca sai come si incavola lo sceriffo ciao a tutti buona serata e ci vediamo domani grazie a tutti